Giappogamer Gioco di ruolo che non mi sarei mai aspettato E allora Cari Giappogamer siamo giunti Esattamente all'episodio numero 57 di questa Serie ma prima Di andarci a gustare questo nuovo episodio Vi invito ad iscrivervi Alla canale ad attivare la campanella E allora Cari Giappogamer adesso è il momento Di andarci a gustare Questo nuovo appuntamento quest'oggi Di Atelier Raiza Ok Benissimo così Giappogamer Eccoci qua nell'atelier Nascosto di Raiza Che oggetti ci stanno qua Che è sta roba Puni Gelli Che caspita è? Che nuova scoperta è? Ma che è? Cioè la gelatina di Puni Ma che caspita Ma non ci voglio credere Nooo Qual è qua? I bupazzi addirittura Ma no Ma non ci voglio credere Puni gigante Vabbè Allora vediamo un po' Ok questa è tutta quanta la mappa Parente del mondo Di questo Atelier Raiza Allora Vediamo un po' The main made of island 1 Ok allora Parente tocca andare a 3 pill Lo vedo lì Scritto di verde Quindi bene Andiamo a 3 pill E vediamo un po' Che succede va Quest'oggi In questo nuovo episodio Di Atelier Raiza Allora vediamo un po' 3 pill Andiamo sulla collina 3 pill Ma non so Ah ma qua L'ha aperto I cancelli Che cavolo Non si può manco saltare bene Porca la miseria E allora Perdi qua Presumo Vai Vediamo un po' Facciamo una bella corsetta Allora Vediamo un po' Qua ci sta un qualcosina Ok prendi qua Prendi di qua Ok Continuiamo Ok qua ci sta Quella sfera Eccola là Ma non è di qua Non segna di qua Ma segna per di qua Vediamo un po' Ma sono delle antiche rovine Eh infatti Che ve l'ho detto Porca la miseria Ma che è Ma che è tipo un orologio Che caspita è Oh ecco Musichetta dell'avventura Va Ok dice Questo è meglio È molto più grande Di quello che mi aspettavo Sto c'è qualcosa di interessante Dice ok Dice ok Ho supposto Insomma Che ci sia scritto Un aiuto Dentro Per quanto riguarda L'isola E Questo avrebbe senso Perché è così grande Dice qua Ovviamente C'è qualcosa di scritto Ma tu Ampel Ci capisci qualcosa? Dice ma Niente di particolare Una semplice preghiera Per la pace Per le buone cose Dice ma Di sicuro Dice lente Giusto un idiota Doveva scrivere Il segreto Dell'entrata Qui Dice ma Mi chiedo dunque Se la chiave Può essere utile Lente Che ne dici Insomma Può servire Questa chiave No No lente Dice di no Dice Sei sicuro? Dice Ma Sì insomma C'è bisogno Magari Di qualcosa Più grande Dice No ma Aspetta Dai ma Non può Essere Giusto Dice forse C'è bisogno Di qualche Qualcosa Vi possa servire Dice ok Dai andiamo Insomma Dobbiamo Prendete Studiare Questo monumento Fin dalla base Lila e io Andiamo A cercare Nel perimetro Dice ok Dai Ci chiediamo Più tardi Ok Ok Siamo tutti Un po' La ricerca Qua Sulla base Del monumento Niente Non ho trovato Niente Pare di no Dice Trovo Cosa Insomma Io Non lo so Chiedere Insomma Mi basta Giudicare Le vostre facce Dice Sì Beh insomma Nessuna chiave Nessun meccanismo Niente Niente Mi chiedo Se sia Il posto Giusto Dice Abbiamo trovato Qualcosa Che identifica Insomma Una grande Una grande Apertura Però Non è successo Niente Dice Ma non si può Trovare niente Alla fine Dice Dice Ma Tristemente No Insomma Mi chiedo Se possiamo andare A A fare un cerco Insomma Trovare anche lì Vicino alla fontana Ma Abbiamo trovato Non abbiamo trovato nulla Dice Qua insomma Comunque C'è magari Bisogno di Qualche cosa Di veramente Piccolo Insomma Però abbiamo trovato Niente Che possa Essere visibile Qui intorno Dice Ma Siamo sicuri Che alla fine Qui È qualcosa Qui dentro L'isola Dice Beh L'idea Insomma Era quella Giusta Insomma Poteva essere Trovata qui Nell'isola Però Ora che È menzionata Dice Ok Questa comunque Capisco che La tua casa Insomma Il tuo luogo Però Sicura che Non c'è Nessun altro luogo Dove possiamo andare A trovare A cercare Dice Ma Per essere onesta Veramente Non ne so nulla Dice Beh Ma non pensi Ci sia Qualche altro Posto Interessante Dice 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 Ma comunque Non sono tutte Idee Malvagie Dobbiamo comunque Pianificare Dice Ok Andiamo Torniamo a Nascondiglio Dice Ok Dai Iniziamo a Cercare Questa Questa Chiave Ok Updated Vediamo un po' Allora Trepito Ok After To figure out Decide to split Ok Diciamo Prende di Dividersi Nelle varie ricerche E trovare Questa chiave Allora Bisogna Ambisticare Differenti Parti De Kirk Island Including Secolo Del Farm Old Town Kirk And Port E Treppe Hill Vabbè Treppe Hill Ci siamo Cavolo Vediamo un po' Ah ok Possiamo chiedere a lui A Padre Boss Vediamo un po' Se sa qualcosa Dice Oh Raiza Insomma Sai niente Di boss Ah no Grazie Di aver aiutato Boss No Dice la stessa cosa Ok Vediamo un po' Qua No eh Allora Vediamo un po' Ambisticare Secolo del farm Secolo del farm Vediamo un po' La fattoria Ok Andiamo qua Vediamo un po' Che accade Tocca Investigare Ok Vediamo un po' Forse abbiamo Trovato la via giusta Ecco Oh Bachel Freshner Ma che succede Dice no Stavo giusto parlando Insomma Di come crescono le cose Oh veramente Ah bene Beh Per essere honesta Non è così grande Non è così grandioso Dice si Vabbè Ok Dai Però Sembra così grandioso Dice no Ti dico io no Dice dai Dimmi qualcosa di nuovo Dice Eh Sì io comunque Devo cercare di trovare Un mercante Eh Che vada alla capitale Per fare qualcosa Ma cosa Ma cosa ti serve Cosa hai bisogno Dice no Bah E Giusto qualcosa Exciting Eccitante Ma vabbè Qualcosa di eccitante Sì qualcosa che nell'isola Non c'è O non ha Mmm Va bene Ok Darò un'occhiata Dice di sicura Sì Da Wow Araiza Bene così Possiamo sempre contare su di te Ok Ok Ah ok Report Vediamo un po' Ok Si può già fare il report Parliamo un attimino Allora Quante te ne servono Solo uno Vai così Vai così Dice Bascilla Eccoli qua Ecco i semi Dice Vorremmo qualcosa Che non avesse l'isola Bene così Vediamo un po' Sì Qui si vorrebbe fare Non ho idea Di come possono Crescere Però Sembramente eccitante Bene così Dice No Dai Una sorpresa E Va bene Ok Vediamo un po' Ok Lei se ne va Ah va Va a coltivare Direttamente Ok Vediamo un po' Dice Va bene Ok I semi Vanno bene Ok Vai così Bene così Completata Spacchiamo un po' Qua Va E Ok Vediamo un po' Punta qua Ma qua non si può entrare No No qua non si può entrare No qua ci sono i campi Vai Prendi qua Ok Ok Korkenfruit Ok Ok Vediamoci Muoviamoci Un attimino Vediamo un po' Il da fare Allora Old Town Vediamo un po' Andare All'Old Town Vediamo un po' Che qua capita Qualche cosa Vediamo un po' Sono curioso pure io Non mi sa che non era di qua Di qua Vediamo un po' Oh Ok Eccola qua La stele Eh Nel vecchio cimitero Eh vabbè Eccola qua La stele Sì mi ricordavo E Dice Infatti pure Raiza Se ne accorge Dice Sì Questo è molto simile Al monumento di Treppe Hill Molto interessante Molto intrigante Dice Dice ecco qua C'è un'entrata Però un po' Differente Da quell'altra Però la chiave Non entra E Ok Ok Siamo sicuri che la chiave Non entra No Però comunque Segna qui Eh sì È molto simile Il movimento Però è più piccolo Ovviamente è molto più piccolo Rispetto a quell'altro Allora Poi pure qui Ok Ci siamo Arrivati Poi dice Curkenport Veniamo un po' Allora andare Curkenport E vediamo un po' Se cambia qualcosa Anche qui al porto Vediamo un po' Vediamo un po' Se stavano anche qui Allora Aspettate un attimo Di qua No però Questa è rossa Vediamo un po' No questa Possiamo accettarla Vediamo un po' Di qua Di qua Andiamo per di qua Ok c'è un altro monumento Pure qui Vabbè intanto Raccogliamo un pochetto Va Non si sa mai Vai prendi qua Ok Buoni sti frammenti Infatti Ci sono pure Sti svariati cristalli C'è un altro monumento Pure qua Cavolo Vediamo un po' Vediamo un po' Questa sembra Una cosa molto interessante Mi ricorda Il movimento Quello tra i peil Niente Manco questo Dice no Qua c'è una piccola Un piccolo Pertugio Una piccola apertura Però Sembra differente Da quegli altri La chiave Non funziona Come dall'altra parte Ok Vediamo un po' Di qua Che ci sta Oh Ci sono questi due Qua Che fanno Niente Guardano il mare Ok Allora Vediamo un attimo E Bisogna investigare I frenti parti Cucarana Include Secoli di fa Old town Cucarport Treppe hill Però la fattoria Cavolo La fattoria Non c'è un monumento Dobbiamo trovare Sto movimento La fattoria Dove che spiazza Sto movimento La fattoria E poi Te l'hai fatta Pure notte Qua Io un po' Ma di qua Allora Vediamo Un po' Forse Di qua Vabbè Che si è fatta Notte Eh Ok Si Side hill Questa è un'altra zona Ah Eccolo qua Eccolo qua Ho trovato Pure qua Dice Dice Non funziona Non funziona Niente Non funziona Per nessun monumento Bene Però Comunque Abbiamo segnato Sti monumenti Va Ok Adesso Vediamo Vediamo un po' Sono Proviamo Proviamo un po' Proviamo un po' No Con lui No Vediamo un po' Allora Torniamo un po' Qui All'atelier Magari Magari Ci riposiamo un po' Chi lo sa Vediamo un po' Ah ecco Buoni tutti Oh C'è un musichetto Ok Vediamo un po' Ampel con Rise Dice Ok Dai Hai trovato Qualche luogo Dice È un po' Difficil Non è Troppo difficile Ho trovato I giusti numeri Insomma Del tipo Delle gemme Che si possono Duplicare Che voglio Duplicare Ah ok Bene Ok Però abbiamo bisogno Di qualche cosa Giusto Sì Ma è facile Insomma Bisogna Utilizzare Uno stock Di gemme Bisogna Comunque Fare attenzione Comunque Fare pratica Ok Vediamo un po' Nuovo tutorial Item duplication C'è Presente La duplicazione Degli oggetti Ok Con With the Multi Calderone You Can Make Duplicate Sova Singoli Quindi Con Il Multi Calderone Possiamo Duplicare I Singoli Oggetti Select The Item You Want To Duplicate And You Will See How Many Gems You Need To Do Quindi Diziona Prende Gli oggetti Che vuoi Duplicare E Tu Vedrai Molte Gemme Insomma E Vedrai Anche Il numero De Gemi Di Di Bisogno Ok Mene Copie Sull'ipo Fai Tutte le copie Che ti Pare Oh Item Cloner Yatta Yatta Vai col Trofeo Vai col Trofeo Bene Così Bene Così E Allora Vediamo Un po' Do Stare Multi Calderone E E E E Vediamo Che oggetti Ma Tipo Che ne So Sta Bomba Di Qualità 60 Oh Meni Quanti To Make 2 1320 Ma Ah Le gem 1320 Gemme Bene Abbiamo 93 1993 E Che Caspita Vai Vediamo Un po' Vai Dublichiamo Ok Bene Così Vai Dublichiamo Questa Qua 4416 Ok Che bella Potente Quella Antesa Mai Ok Bene Così Ok Bene Bene Vediamo Un po' Anche Possiamo Sintilizzare Qualche Cosa Qua Facciamo Questo Qua Va Ok Qualcosa Di Per Ne Vuoi Due E E Quelli Qua Due Su Go Ok Sei Contenta Bene Qualcosa Di Blu Ne Servono Due Vabbè C'erano Tre Va Ok Bene Così Su Go Su Go Va Ne Vuoi Tre E Vai Con Tre Va Vuoi Dell'acqua E Te Ne Do Tre Va Con Qualcosa Di Rosso Vai Questo Qua Vediamo Un po' Ok Su Go Su Go Ok Ho capito Vai Qua un altro Bel Bicchierozzo Ok Vai Così Vai Così Raiza Vai Col Cannone Super Mega Cannone Ok Bene Bene Quindi Ne Quella Gelatina Eh no Questo Non ce l'abbiamo Cazzarola E Manco Questa Cavolo Energianica Nemmeno Mystic Rub Cavolo Ma ci manca una marea di Di oggeti Cazzarola Vediamo un po' Questa Eh no Staltium Nemmeno Questo manco Cazzarola Cazzarola Eh Vabbè Vediamo un po' Allora Il da fare Vai E lui No Te riposiamo un po' Ok Sono 5 del mattino Vediamo un po' Allora Investigate Ma abbiamo già pure Investigato Però vogliamo tornare a treppi Vediamo un po' Icuso Andiamo Icuso Perché treppi Il Ma Vediamo un po' Vediamo un po' Se magari dobbiamo ritornare qui Perché segna ovviamente anche qua Però a questo momento qua A questo monumento qui Eh Che è quello più grande in assoluto Vediamo un po' Vediamo un po' Iappari Iappari Però significa tipo sorpresa Comunque Si Prorebbe Andare Bene Ma Sono un po' Sospettoso Di questo monumento E Iappari 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 Dici La chiave sembra Sembra entrare bene Ma non avviene nessuna cosa Ma cosa Sbaglio Ok Bene Sono unita Allora Dici Ragazzi Ma Avevi cercato Tutti quanti? Io sono andato verso Razen District Ma Anche Non c'è nessuna rovina Dici No Così Tu non hai trato niente Dice Dai però Non dire così Insomma Mi sono fermato Da Tao A casa di Tao Però comunque era Sotto una montagna Di libri Dice E tu Claudia Cosa Pen Cosa hai trovato? Dice Io ho provato Alltown Ma Nell'area Insomma Non ho trovato niente Di che Di vecchio Dice Eh sì Nell'area Insomma Ha fatto molte demolizioni Hanno anche ricostruito Io sono andato invece Nelle Nelle aree Delle Delle aree Foreste Ma non abbiamo Trato niente Io pure sono Io pure sono andato Al porto Di Boden District Ma Non ho trovato niente Gli appari Dice Forse questa Non è la chiave Giusta Dice Ma Tutto il tempo Abbiamo fatto Per cercarla Come può Non essere La chiave Giusta Ah ecco Tao Dice Oh Bene Sedutanti qua Allora Ho trovato la chiave Honto Cosa Dice Oh bene Così Velocemente Ok Ma come funziona Dice Esattamente come funziona Il movimento di Treppe Hill Dice Cosa Ma Io non l'abbiamo cercato Ma Non funziona Quella chiave Dice No ma Avete sbagliato C'è un altro Funziona un altro modo Per attivare La chiave Dice Ma abbiamo trovato Abbiamo tentato Cosa Dai faccia Abbiamo trovato Insomma Il 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 buco Insomma Quella seratura Ma la chiave Entra anche Perfettamente Abbiamo tentato Però Non accade niente Dice Oh veramente Questo è strano Ma veramente Ce n'è bisogno Di un'altra cosa Dice Dice Ok Eh si Dopo tutto questo tempo Si Potrebbe Dice ma in questo caso Non possiamo Fissarlo Insomma Che Diciamo Dice Renderla migliore Insomma Tutto Magari possiamo Intentare con l'alchimia E dice Eh Questa è veramente Una parte L'alchimia Molto avanzata Pensi che tu Possa ripararla Dice Dice ok Io non so Se posso ripararla Però posso Ovunque Provare Restaurarla In qualche modo Dice ok Un'idea interessante E Vemente È un po' Ambiziosa Molto bene Dai procedi Ok Ok Vediamo un po' Ok Mo' sta studiando Oh Creating a true key Dobbiamo creare Una La vera chiave Eh Learn how to make A Pinnor key Ok Nuova scoperta Pinnor key Ok La chiave Pinnor Eh Però Come dire Viviamo un po' Qua magari Nel calderone Vediamo un po' Se qua si trova Pinnor key Pinnor key Allora Così Eccola qua Eccola qua Pinnor key Buoni tutti E questa Ce l'abbiamo Ok E Qua Cavolo Ma che ci vuole Però Qualità Le genie Ma dire Loop Eh ma qua Eh ma Eh Oli drop Oli drop Oli drop Cavolo Vediamo un po' Oli drop E come si trova Oli drop Vediamo un po' Sarà qualche Gelatina Fish oil Energianica Cavolo Vediamo un po' Bobrod No Quello No Non è Questa Nascia No Supplemento Rosso Supplemento Blu Giallo È qualcosa Comunque Di giallo Verde No Water No Akasha Sap Lapis Papillon No Magic Tomb Peace Ice Bomb Dream Mushroom Eh sì Qui ci sono i funghetti Quelli alucilogeni Sardine Rainbow grape Poison cube Freeback sand Non è Natural glow Mixing oil Ingot Niente Porca La miseria Questo qua Old pinor key Ovviamente ce l'abbiamo Oli drop Qualcosa però di Oli è sacro Drop Tipo delle lacrime Sacre Ma vediamo un po' Se magari Non è proprio qua Ma è qua Vediamo un po' Trovo il bottle sun No Vediamo un po' Ad materials Vediamo un po' Se magari qua In qualche modo Questi oli drop Vediamo un po' Così magari a culo No eh No porca Misere 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 Di no Allora Allora No questo è un moltiplicatore Vediamo un po' Vediamo un po' Che dice Va No Niente di interessante Vediamo un po' Qua di qua No questo è per le armi magiche Ok È un qualcosa di sacro Però come caspita Gem reduction E pin or key Oli drop Sintesis item Categoria Eh non si sa Il punto è drogativo Allora Allora Questa è un'altra Comunque ovviamente A biacchiare Ce l'abbiamo Eh ok Di qua Però ovviamente Non ce l'abbiamo Quindi È un cavolo di turno Vediamo un po' All pin or key Ok Questa ovviamente Ce l'abbiamo Un oggetto raro E fin qua Sì materiali sintetizzanti Oggetti sintetizzanti Eh vabbè vabbè Dai Vediamo un po' Magari di riuscirci Nel prossimo episodio Per quanto riguarda Questo episodio qui Di Atelier Ryza Direi bene così Deviamoci pure a prendere Un bel trofeo Quindi ottimo così Bene così E allora Cari Giappolaverse Eccoci qui Nella schermata Principale Di Atelier Ryza E allora Anche questo episodio Numero 57 Ovviamente Termina qui E come sempre Insomma Vi invito a lasciarmi Più likes possibili Se vi è piaciuto Ovviamente Commentate Condividete con i vostri amici Nungo e largo Per far conoscere Giappogamer Vi invito Come sempre A seguirmi I miei vari social Vi invito come sempre A essere pagina Facebook Twitter Instagram Canale Telegram E poi ovviamente Come sempre Vi invito anche Ad iscrivervi al canale Ad attivare la campanella Per rimanere Aggiornare In mezzo dei video Episodio su gaming Giapponese A 360 gradi E in ultimo Vi ricordo anche Il mio blog Su WordPress Personale Dove Tanti in tanto Scrivo news E le rinzioni I miei vari Sui videogiochi Che riesco a portare A termine Sul canale Lo potete Seguire su WordPress All'indirizzo Giappogamer.com .blog E allora Cari Giappogamer Per il momento È tutto Matanè E ai prossimi Episodi E ai E ai